Musica Oggi siamo con Gino Jacobelli, una vita dedicata all'editoria indipendente per parlare di un evento che ci sarà a Milano il prossimo mese ma prima di tutto gli chiediamo un commento sulle nuove manovre che ci sono nel mondo dell'editoria che cercano di costruire ancora più cartello, ancora più monopolio in un settore già con poca pluralità Salve, sono Gino Jacobelli, presidente dell'osservatorio degli editori indipendenti che sta organizzando insieme a DOCS questa fiera Book Pride di cui parleremo, accetto benissimo la domanda perché una delle grandi battaglie di Odei negli ultimi 12 mesi ormai ci sono state delle grandi evoluzioni nel mercato editoriale a livello dei grandi gruppi editoriali specifico che Odei è un'associazione dove sono presenti caseitrici che non fanno parte di nessun gruppo partecipato dei grandi gruppi editoriali ultimamente si parla molto di Mondatori che sta comprando delle azioni di RCS e quindi si va verso questo grande monopolio dell'editoria la cosa già è partita qualche mese prima però c'è stato anche l'unione tra le due più grandi case di distribuzione che in realtà sono le uniche reali di mercato esistenti per poter garantire a tutti una distribuzione nazionale che si stanno unendo e ne stanno fornendo uno sola uccidendo così chiaramente il concetto di concorrenza specifico che viviamo in un paese dove abbiamo editori che hanno catene librarie e case di distribuzione una cosa che chiaramente non può che generare sospetto rispetto al monopolio che si sta continuamente accrescendo e creando anche un problema rispetto al pluralismo culturale della possibilità di diffondere idee diverse da quelle appunto conformi al monopolio in atto Assolutamente, di fatti appunto uno dei nostri concetti che portiamo avanti è la bibliodiversità la difesa della bibliodiversità l'osservatorio degli editori indipendenti nasce proprio da questo concetto difendere la bibliodiversità perché a un certo punto ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa questo mercato che ci butta continuamente fuori da tutti i punti vendita accrescendo la presenza di pochissimi attori diventa un problema culturale forte per il paese cioè se non c'è diversità, se non c'è la possibilità faccio un esempio quanti scrittori nascono nelle nostre case editrici nelle case editrici indipendenti e poi magari fanno la scelta di andare nelle grandi case editrici questo che cosa significa? significa che ormai gli unici a difendere a difendere la letteratura, la narrativa la potenzialità dei sordienti di uscire fuori scoprire nuovi ricercatori che possono portare delle belle idee siamo rimasti principalmente le case editrici indipendenti a difendere questa cosa se scompariamo diventiamo il paese e veniamo all'evento che ci sarà a Milano Book Pride una fiera, un incontro ma anche un momento di grande dibattito culturale e anche politico sui temi dell'editoria aperto a tutti e soprattutto partecipato da gran parte e forse tutti gli editori indipendenti Book Pride nasce dal perfetto matrimonio che si è venuto ad avverare con la cooperativa DOCS con cui abbiamo costruito insieme questo progetto culturalmente ma anche organizzativamente, tecnicamente e il progetto di Book Pride vuole essere proprio questo oggi le fiere che abbiamo, quelle grandi intendiamo, sono fiere omologate sono fiere che ci uccidono completamente la possibilità di esprimerci lì e esprimerci in quel contesto culturalmente c'era bisogno in questo momento di creare un momento che non era solo una fiera cioè non era solo andare lì e vendere i nostri libri che chiaro ci sta perché è la nostra sopravvivenza ma costruire un contesto che fosse veramente raccontare il nostro progetto e Book Pride è questo e la scelta di farla a Milano è stata una scelta forte che abbiamo voluto imporre con vemenza perché Milano? Milano rappresenta oggi con tutta la Lombardia la più alta percentuale abbondantemente delle vendite dei nostri libri di tutte le case editrici però a Milano, caso strano, non esiste nessun evento legato all'editoria questo perché ci sarebbero varie risposte è chiaro che Milano rappresenta la capitale della grande editoria Mondadori, RCS, tutti quanti i grandi editori potenzialmente il fatto che non ci siano fiere forse significa qualcosa nel senso che hanno fatto un po' terra bruciata adesso arriviamo noi noi editori indipendenti e portiamo lì una fiera della nostra editoria nel cuore della grande editoria e chi verrà a Book Pride cosa trova? innanzitutto chi verrà a Book Pride come impatto troverà subito una grande novità ovvero l'entrata gratuita che è una cosa tipica per le grandi fiere una cosa inusuale è assurdo che le grandi fiere come parlo delle due più grandi ma potrei parlare appunto della fiera di Torino della fiera per ragazzi di Bologna dove addirittura è vedato l'ingresso ai minori 18 anni che la cosa fa abbastanza ridere alla fiera perché insomma i bambini se non toccano i libri e tutto quanto la fiera per i bambini dovrebbe essere autorizzata l'entrata potenzialmente solo a loro e così come più libri più liberi tutte fiere che vivono su grandi finanziamenti da parte delle istituzioni con soldi pagati da noi contribuenti eppure all'entrata c'è il biglietto d'entrata e spesso biglietti anche abbastanza cari come a Torino questo è chiaro che non aiuta il pubblico a venire perché poi non aiuta il pubblico a scegliere liberamente all'interno perché già ha una spesa all'entrata noi abbiamo deciso questa scelta senza finanziamenti pubblici e privati ma completamente autofinanziati con l'aiuto di tanti partner che ci hanno aiutato media partner che ci stanno contribuendo all'iniziativa tutti i media partner completamente indipendenti che lavorano sulla nostra stessa filosofia siamo riusciti con le nostre sole forze a organizzare una fiera con l'entrata gratuita quindi io penso che il pubblico reagirà innanzitutto positivamente a questa grande novità dopodiché dentro cercheremo di fargli trovare un abitato diverso non solo libri ma anche eventi innanzitutto per esempio anche tutto ciò che troveranno dentro penso all'enoteca di Vignagnoli Indipendenti all'interno cioè penso a troveranno a una filosofia che esce al di fuori di come vengono presentate in genere che non hanno niente di differente da una fiera del mobile o dei salumieri senza niente togliere assolutamente i salumieri ma il libro è per forza di cose sicuramente un prodotto commerciale ma anche qualche cosa altro il libro è conoscenza cioè non si ferma al prodotto fino a se stesso e quindi forse aveva bisogno di una fiera un po' diversa quindi troverà tutta questa filosofia all'interno troverà degli eventi gli eventi saranno anche di varie tipologie ci saranno gli eventi proprio per il pubblico di grande impatto eventi culturali legati a grandi temi tutti intorno al tema della differenza e ci sarà l'atelier culturale dove verranno fatte presentazioni più di settore personalmente come osservatorio degli editori indipendenti insieme ad altre associazioni di editori e di librai specialmente verso cui abbiamo trovato valide collaborazioni presenteremo una nostra bozza di legge sul libro alle istituzioni ufficialmente in questo contesto ci sarà anche un ragionamento tra il rapporto tra editoria e comunicazione online dove tra l'altro anche Libera TV sarà coinvolta sì 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 assolutamente sì saremo molto attenti a tutta quanta tant'è vero che nella scelta dei media partner questa cosa esce molto fuori perché abbiamo scelto i media partner che non solo fanno dell'indipendenza come noi la loro filosofia ma hanno anche una politica di innovazione tecnologica che è quella stessa che noi portiamo avanti nelle nostre piccolissime aziende quindi diamo un appuntamento a Book Pride sì Book Pride a Milano dal 27 al 29 marzo venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo presso i frigoriferi milanesi in via Piranesi 10 apriamo alle ore 14 di venerdì 27 marzo questa mi permetto di dire è un'altra piccola novità perché in genere le fiere non si capisce perché aprono il giovedì il venerdì mattina con il deserto assoluto all'interno della fiera e quindi invece noi abbiamo facilitato il pubblico anche in questo concentrandoli nelle loro ore più disponibili la fiera si svolge? la fiera si svolge ai frigoriferi milanesi appunto come dicevo in via Piranesi 10 e vi aspettiamo sarà un bellissimo evento perché noi volevamo chiamarla addirittura festa ma avevamo paura che non si sarebbe capito quindi abbiamo mantenuto il nome fiera però in realtà è una grande festa per tutte le realtà indipendenti perché non ci saranno ci saremo noi editori indipendenti ad ospitare tutte le realtà indipendenti che lavorano per il bene della cultura di questo paese ci vediamo al Book Pride grazie a tutti grazie a tutti